Un buongiorno a tutti i campanari di Youtube, mi trovo a Voltorre, alla chiesa di San Michele Arcangelo, dove abbiamo un concerto di tre campane. E adesso, 6 gennaio, sentiremo le solennità dell'Epifania e sentiremo prima le solennità della Vigilia e poi le solennità dell'Epifania. A presto e tanti saluti da Campanaro 32. Lo dico io. Datta! Stontano! 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 Seconda su! Ci siamo? Allora, perfetto! Ora, all'interno le lasciamo andare tutte, le facciamo rungire e poi le facciamo in tornare, ok? Uno, due, tre! Ok, iniziamo questa! Sperta! Seconda! Per me! Prima! Seconda! Sperta! 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 Prima! Sperta! Seconda! Sperta! Sperta! Seconda! Testa, ricorda Ricorda, ricorda Testa, 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 ricorda No aspetta, se prima di riprendere riprenda. Vai. Prima, terzo secolo! Sunti gugludati, saWhat talk. Grazie! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Togli la donna palestra ma tieni da su. Un giro riporto 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 da su. da su. Un giro riporto 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 da su.